ok dai partiamo buongiorno a tutti buon sabato e buona data saturday a tutti prima di partire un ringraziamento doveroso ai nostri sponsor come ha detto gianluca prima ovviamente senza gli sponsor queste giornate di formazione e condivisione non sono possibili quindi li ringraziamo doverosamente due parole su di me sono riccardo perico lavoro nella filiale italiana di luciente mi occupo di business intelligence e power bi quindi sono coinvolto tipicamente in progetti che ruotano intorno alla data platform di microsoft quindi parliamo di progetti su stack classico on premises che coinvolgono sql server analisi services reporting ma da qualche anno anche progetti che hanno a che fare con tool che sono che sono in cloud tool come per esempio power bi tool come per esempio synapse e tool come data factory per esempio qui trovate i miei contatti credo che le slide saranno rese disponibili da data saturday nel caso in cui non lo siano comunque le trovate le troverete nel mio github le metto all'interno di una sezione dedicata agli eventi quindi le troverete anche lì di cosa parliamo oggi oggi parliamo di di data factory ovviamente parliamo però di una sessione che non è una sessione introduttiva l'obiettivo di questa sessione è spiegarvi come si crea una pipeline o che cos'è data factory in generale è una sessione che vuole spiegarvi un po' quali sono un po' di best practice per lavorare in questo tipo di ambiente vuole spiegarvi un po' dei dei pitfalls dei tranelli che in cui potete cadere durante la vostra avventura all'interno di data factory e quindi è una sorta di collezione di di suggerimenti che vorrei condividere con voi che ho raccolto durante alcuni progetti fatti appunto con con data factory prima però di parlare appunto di questo tipo di argomento giusto un'introduzione su che cos'è data factory per chi magari sta guardando questa sessione e non l'ha mai visto data factory diciamo che è un un tool nato completamente in cloud vediamo se riesco a andare anche il laser così un po' più facile è un tool che nasce completamente in cloud ovviamente su piattaforma microsoft quindi siamo siamo in azure e l'obiettivo di data factory è quello di darvi la possibilità di orchestrare e creare dei processi cosiddetti pipeline con l'obiettivo di muovere le definizioni di microsoft enormi moli di dati soprattutto dati grezzi che ci troviamo a dover gestire in questo in questa nuova era l'era dei big data quindi le famose le famose 3v velocità volume e varietà del dato data factory quindi è completamente un servizio cloud un servizio cloud gestito da microsoft non dovete installarvi nulla in casa poi questo è una è una mezza verità nel caso in cui dobbiate lavorare con sorgenti on premises qualcosa dovete installare ma per iniziare a lavorare con data factory dovete semplicemente andare sul portale di azure creare la risorsa e potete iniziare a lavorare cosa ci fate con data factory un po di tutto la verità è che è studiato per processi di etl quindi se siete degli sviluppatori che hanno già esperienza con processi etl classici magari fatti on premises con qualcosa che magari ricorda integration services vi troverete diciamo a casa data factory si posa anche l'approccio e lt che quindi vuol dire estraggo il dato lo carico da un'altra parte e poi lo trasformo una volta che l'ho caricato perché cambiare l'approccio l'ordine diciamo degli addendi perché vista la la mole di dati quando si lavora all'interno di uno scenario big data è molto più facile trasportare il dato trasportare il dato in un altro in un'altra posizione rispetto alla sorgente e trasformarlo quando lo abbiamo in un posto più più comodo più vicino perché magari lavoriamo anche in un sistema distribuito geograficamente e quindi data factory si propone proprio di aiutarvi in cloud a costruire questi scenari scenari di etl e lt quindi questa sessione come vi dicevo è una sessione in cui vogliamo raccogliere un po di lezioni che che abbiamo imparato perché perché iniziare a lavorare con data factory è molto facile come vi ho detto entrate nel portale di azure create una nuova risorsa e aprite il portale di data factory iniziate a lavorare però spesso quando si hanno sia davanti un tool molto facile da utilizzare il quello che spesso capita è di prenderlo tra virgolette sotto gamba e iniziare a costruire costruire progetti senza magari rispettare le best practice senza un adeguato studio su dello strumento stesso e quindi poi si rischia di cadere nei nei tranelli dello strumento stesso e questo è valido per qualunque tool un altro esempio potrei fare power bi power bi sembra molto semplice all'inizio partire e costruire progetti con questo tool si installa si riesce a costruire portistica molto rapidamente ma poi è facilissimo che quando si passa da una demo o da un progetto pilota a un vero progetto se non si è fatto uno studio poi si rischia di andare poi incontro a problemi seri soprattutto quando le mole di dati diventano importanti quindi quello che vorrei condividere con voi sono appunto delle lezioni che ho imparato durante durante gli ultimi due tre anni in cui ho implementato progetti con con data factory diciamo che la prima il primo suggerimento che mi sento di darvi forse meno tecnico ma più di di policy più di stile che è quello di fare le cose semplici e pulite come regole generali cercate sempre quando approcciate un progetto con data factory dovrebbe essere valido per tutti i tipi di progetti ma con data factory in particolare quando create degli oggetti all'interno di data factory dategli dei nomi sensati data factory come molti altri tool quando create un oggetto gli da dei nomi di default ma che non hanno un vero significato e quindi cercate quando lavorate con data factory di dare dei nomi sensati alle cose perché ripeto quando siete a livello di progetto pilota avere le pipeline che si chiamano pipeline 1 2 3 o pippo pluto e paperino funziona ancora perché le avete tutte a disposizione le riuscite a vedere facilmente e vi ricordate qual è l'ordine delle pipeline stesse nel momento in cui il progetto è un progetto enterprise quando magari avete 100 200 pipeline 300 data 7 così via avere un nome corretto negli oggetti e degli standard vi semplifica notevolmente la vita utilizzate un pipeline approccio e poi vi spiego un po che cosa intendo per questo pipeline approccio e un'altra cosa che sembra scontata ma credetemi non lo è organizzate gli oggetti quindi prima di partire a creare oggetti all'interno di data factory datevi un ordine mentale mettetevi a tavolino e decidete qual è lo standard e credetemi lo standard lo potete decidere una volta e applicarlo in n progetti diversi una volta che avete lo standard questa cosa la potete replicare ma perdete un po di tempo tra virgolette all'inizio a studiare uno standard per nomenclatura organizzazione degli oggetti e cercate di rispettare questo tra virgolette framework che vi auto imponete ce ne sono veramente tante altre di best practice di questo tipo ci vorrebbe diciamo una sessione di 45 ore per discutere tutte le best practice ma questo sicuramente è l'inizio di quel keep it simple keep it clean perché perché sono sicuro che se tra di voi c'è qualche sviluppatore sys sia sicuramente trovato in questa in questa posizione fissando sullo schermo un grafico un sys di questo tipo per cui un integration service vecchio stile microsoft per fare etl molto potenti ma appunto la cosa che viene facile fare cos'è iniziare a fare drag and drop di task all'interno della della canvas degli integration services e creare dei flussi veramente complessi che fanno magari varie operazioni diverse all'interno di un unico task rendendo quindi poi impossibile debaggarli senza andare a guardare ogni singolo task ed è quello che succede spesso quando si prendono in mano dei progetti sys che hanno veramente tanti task all'interno questo in realtà non è nemmeno un data flow ma è un control flow quindi all'interno del control flow ci saranno altri data flow che all'interno potrebbero avere altre altre attività annidate e potrebbero addirittura essere molte anche quelle quindi cerchiamo di evitare queste cose perché perché un tool è nuovo ma magari mi porta ad avere gli stessi tipi di problemi questa per esempio una pipeline di data factory in cui diciamo non è stato rispettato quel suggerimento del fallo facile fallo pulito infatti cosa abbiamo abbiamo la partenza dove chiamiamo un'attività web e poi ci sono tutta una serie di attività cascata di vario tipo senza un ordine chiaro diciamo che l'ordine è dettato in realtà dalla sequenza delle dipendenze di ogni singolo task però già solo a guardarlo non è chiaro che cosa viene scatenato dopo un determinato task perché è sicuramente chiaro che ci sono sette otto task di copia le chiamo activity perché il nome corretto activity quindi 78 activity di copia ma nel momento in cui passo al secondo passaggio che sono quattro attività altre quattro attività di copia dati non riesco più a capire cosa chiama cosa perché ho già uno schema molto complesso e addirittura qui c'è diciamo un problema grafico per cui se uso l'auto layout la pipeline viene schiacciata e tutte le frecce vengono posizionate in maniera super ordinata ma assolutamente incomprensibile non vedo che cosa manda l'output verso un altro input quindi difficile da gestire tutto questo poi vedete che scatena altre tipologie di activity come la chiamata o dei notebook di databricks store procedure o addirittura dei data flow di data factory o addirittura servizi di machine learning esterni quindi posso fare in realtà tutto all'interno di una pipeline ma mi trovo a dover fare che cosa a dover nel caso funzioni tutto non ho problemi ma quando ho un problema o un bug da qualche parte un errore da qualche parte in una situazione del genere devo andare a guardare ogni singolo task per capire effettivamente che cosa sta facendo la pipeline in un determinato momento e cosa stava facendo quando è andata in errore se io per esempio andassi a spaccare questa pipeline in step step di ingestion uno per esempio ingestion due trasformazione uno trasformazione due trasformazione tre e ingestion finale verso la destinazione uno e due sono sicuro di cosa sta succedendo in quella determinata pipeline che è molto semplice molto pulita e io posso quindi evitare di fare tutti i passaggi dall'inizio alla fine per debuggare e questo come era vero nei dati dei integration service per esempio è vero anche all'interno di data factory quindi il primo suggerimento è cercate di tenere le cose semplici cercate di utilizzare un approccio pipeline il fatto che gli oggetti dentro data factory si chiamino pipeline in realtà è solo una un caso di omonimia cosa intendo per pipeline approccio immaginiamoci appunto una pipeline in cui abbiamo delle sorgenti dati che entrano e per esempio vengono posizionate in un data lake oppure in un sql server quindi posiziono faccio una prima ingestion e posizioni dati all'interno di un primo livello potrei eventualmente fare delle trasformazioni in questi livelli su in livelli successivi sia su sql che su data lake ovviamente potrei stare all'interno dello stesso database o andare su diversi database o su diversi storage ma come vedete il flusso è abbastanza chiaro parto dal dal dato grezzo e poi passi in livelli di trasformazioni successivi fino ad arrivare alla mia destinazione finale che per esempio potrebbe essere un un asur sql un sql on premises o qualunque altra cosa che che potrei utilizzare con data factory il pipeline approccio quindi mi permette in maniera chiara di se segmento bene le mie pipeline e i miei passaggi quando si verifica un errore un qualcosa so esattamente dove mi trovo all'interno della pipeline se invece implemento il tutto in maniera un pochino più diversa e senza studiare a tavolino i passaggi cosa mi posso aspettare mi posso aspettare un ingestion magari in una prima in un primo livello di trasformazione dentro al data lake che poi scrive all'interno di un secondo livello di trasformazione che però magari aggiorna all'indietro questo aggiornamento all'indietro poi magari mi fa una scrittura verso una delle mie sorgenti poi faccio una di una nuova ingestion verso un terzo livello di trasformazione un ingestion all'indietro verso il secondo livello di trasformazione che al mercato mio padre comprò quindi in questo modo lo posso tranquillamente fare le pipeline possono spostare i dati verso qualunque cosa in qualunque modo sorgente e qualunque tipo di sorgente supportata ma quello che rischio è creare il caos un caos che poi è un problema nel momento in cui devo andare a capire dove si è bloccata la mia pipeline e perché si è bloccata la mia pipeline quindi capite bene che un flusso di questo genere è molto meno chiaro se torni indietro alla slide di prima rispetto a un flusso diritto dalla sorgente alla destinazione quindi mi raccomando evitate cose di questo tipo strutturate bene i livelli di di trasformazione per arrivare poi alla destinazione in maniera chiara tenere pulito tenere pulito in che senso nel senso che questo per esempio è un data factory che abbiamo su un cliente ovviamente tutto censurato non si vede effettivamente il nome completo degli oggetti ma capite che se vedo degli oggetti che si chiamano master io già capisco che questi sono gli oggetti che andrò a lanciare per governare la pipeline quindi questo oggetto master per esempio che fa una trasformazione 00 all'interno avrà tutta una serie di chiamate ad altre pipeline di trasformazione 00 che al loro interno hanno un'attività molto semplice fanno per esempio la copia di una determinato oggetto verso una destinazione e questo è molto chiaro molto semplice e uno anche uno sviluppatore che prende in mano la pipeline senza avere tutto il background funzionale capisce esattamente che cosa sta lanciando questa pipeline dove sono le pipeline figlie perché le organizzate in cartelle ho dato dei nomi che hanno un significato e si può aspettare che queste pipeline non siano complesse perché perché sono pipeline piccole dedicate ad una determinata funzione tenete presente che al momento attuale una pipeline di data factory può avere al massimo 40 activity quindi non vi potete nemmeno spingere troppo oltre nella complessità di una pipeline e quindi siete tra virgolette portati ad avere un approccio che sia quello di spezzare in attività semplici il tutto il vostro flusso di dati il vostro flusso di trasformazione un'altra un altro suggerimento che vi do è quello dei global parameter fino a poco tempo fa i global parameter non esistevano quindi vediamo come era prima e come dopo l'introduzione dei global parameter prima se io avevo una sequenza di pipeline come abbiamo descritto prima quindi tre pipeline a cascata che vengono appunto chiamate una dentro l'altra se nella pipeline figlia per esempio dovevo fare l'archiviazione di un file l'archiviazione di un file all'interno magari di un blob storage e voglio passare voglio passare a questa pipeline innanzitutto il nome del container dove andare a fare il l'archiviazione o il nome della del blob storage o qualunque cosa io gli voglia passare e voglio passare a questa pipeline anche il fatto che debba o meno archiviare i parametri che esistevano prima erano solo parametri di tipo pipeline per cui ogni pipeline aveva i suoi parametri ma per poterli passare da una pipeline all'altra dovevo appunto ogni volta che chiamavo una pipeline effettuare questo questo passaggio di parametri capite bene che non è un grosso problema nel momento in cui ho solo due chiamate ma quando inizio ad avere molte pipeline a cascata diventa un po' un problema di solito questi parametri venivano messi nella prima pipeline diciamo nel master pipeline del vostro del grosso del vostro flusso dati per averli in un punto centralizzato e quindi poi diventava abbastanza laborioso doverli spostare da un punto all'altro delle vostre pipeline con chiamate successive dovevate ricordarvi di metterli ovunque cosa diversa invece con i global parameter per cui la pipeline figlia può referenziare direttamente un qualcosa che viene chiamato appunto global parameter che a disposizione di tutte le pipeline che ci sono all'interno del vostro data factor quindi io senza passare le chiamate posso andare a referenziare direttamente i parameter dalle da tutte le pipeline che voglio l'unico diciamo punto di attenzione è che purtroppo in questo momento storico il global parameter possono essere referenziati solamente dalle pipeline e non da tutti gli altri oggetti lavorando con data factor imparerete e lo vediamo anche in una demo dopo che molti oggetti sono parametrici quindi potete cambiare per esempio il nome di un db lo schema di una tabella il nome di una tabella in maniera parametrica la cosa che non si può fare è utilizzare i parametri globali quindi vedete per esempio le proprietà di una pipeline vi permettono di accedere a un parametro globale mentre un dataset non vede i parametri globali ma vede soltanto una cosa chiamata parameters che sono i parametri del dataset stesso quindi non riesce a vedere i parametri globali e questo è un punto diciamo è un punto debole di questa cosa è già stata segnalata a microsoft che sarebbe meglio implementare o allargare questa questa funzionalità vediamo se ci sarà un qualche evoluzione da questo punto di vista vi faccio vedere velocemente in una demo di cosa stiamo parlando quindi ho switchato su su data factory andiamo a vedere un'implementazione quindi siamo all'interno di una di una data factory e vi faccio vedere spero sia abbastanza grande si veda abbastanza bene eventualmente zoom un pochino ok così troppo ok quindi siamo all'interno di data factory vi faccio vedere due implementazioni diverse per cui abbiamo la prima implementazione è un implementazione con tre pipeline quindi abbiamo la pipeline grandparent la pipeline parent e la pipeline infant come vedete la grandparent e la parent hanno un execute pipeline come activity quindi la grandparent chiama la parent la parent chiama la infant e la infant esegue la nostra copia activity questa copia activity che cosa fa semplicemente va a scrivere un file da uno storage account dentro a una ad un container a un container di archivio però non abbiamo tra virgolette schiantato il nome del container dentro il codice ma è un container parametrico vedete che infatti qui c'è scritto che il container è un parametro un parametro che viene da dove vedete che il nome pipeline parameters pipeline precede il termine parameter quindi questo è un parametro della pipeline vado a vedere le proprietà della pipeline e mi troverò i parametri quindi vedo che c'è un parametro pp container come abbiamo detto se utilizzo l'approccio parametri di pipeline vuol dire che questo parametro deve venire da sopra deve venire da un parametro che esiste all'interno della pipeline precedente e infatti eccolo qua e se mi muovo ancora più in alto ho ancora l'altro parametro il parametro container che parte da appunto dalla grandparent ed è e finalmente ho il nome vero quindi ogni qualvolta c'è una chiamata una pipeline viene passato nell'execute pipeline il parametro e io mi devo ricordare di fare questa cosa ogni qualvolta chiamo una pipeline figlia e quindi questo approccio diventa un po macchinoso se io invece utilizzando la nuova funzionalità nuova diciamo che c'è da un po di tempo ormai utilizzi global parameters posso andare a creare qui dei parametri dandogli un tipo particolare un valore particolare ma posso andare quindi a creare dei parametri in questo caso abbiamo un parametro global parameters archive container che ha il valore archive e semplicemente che cosa faccio quando vado a sviluppare le mie pipeline con lo stesso approccio quindi ancora tre pipeline e a cascata chiamo una pipeline dentro l'altra vedrete che in quest execute non c'è nessun passaggio di parametro di parametro perché in realtà la la pipeline più interna va direttamente va direttamente scusate qua va direttamente a referenziare eccolo qua lo apro nelle interfacce grafica che è più chiara va a referenziare che cosa un global parameters quindi direttamente da qui io vado a chiamare il parametro globale vedete che poi da questa pipeline io accedo appunto ai parametri globali e quindi sto chiamando un qualcosa che è centralizzato la immaginatevi poi di aggiungere puntamenti a blob storage appuntamenti a si quel appuntamenti a chi volto quello che volete tutto centralizzato all'interno di global parameters diventa molto molto più molto più facile da gestire e da da orchestrare quando dovete magari fare dei cambiamenti anche perché cambiate ambiente andate da un ambiente di produzione ambiente di test o dovete switchare in qualche modo le vostre configurazioni piuttosto che andare a cambiare tutte le pipeline che avete e quindi questo è sicuramente un una funzionalità che vi consiglio di prendere in considerazione e ovviamente ricordandovi che ci sono alcune alcune limitazioni per cui non la potete usare dappertutto un'altra un'altra punto di riflessione che vi voglio passare è quello di utilizzare un approccio metadata driven che cosa significa significa non fate tutto manualmente se possibile perché perché non c'è problema voi potete aprire data factory come vi dicevo sviluppate tutte le pipeline che volete create tutto a mano create tutti gli oggetti a mano senza in realtà nessun tipo di problema ma capite che nel momento in cui le cose diventano enterprise e quindi avete un numero di oggetti molto molto elevato dovete poi andare a fare manutenzione o obbligatoriamente in maniera manuale per cui se possibile cercate di trovare un modo per automatizzare la creazione e la gestione delle vostre delle vostre pipeline cercando magari di renderle flessibili e dinamiche per cui invece che creare 10 pipeline tutte uguali che fanno la copia dei dati da sequel al blog storage o viceversa trovate il modo di crearne una sola che in maniera parametrica vi permette di cambiare il nome della tabella che volete esportare e cambiare magari il nome del blog storage verso il quale volete volete scrivere questo vi permette ovviamente di risparmiare lavoro risparmiare tempo fatica e grazie a un meccanismo di flessibilità e dinamicità potete avere delle soluzioni più facili rispondere ovviamente in maniera più rapida a cambiamenti di scenario per cui se domani le tabelle non sono più 10 ma sono 100 con un approccio metadata driven avete qualcosa di veloce da implementare mentre se dovete implementare 90 pipeline manuali ci piegherete necessariamente di più quindi cercate di renderlo flessibile dinamico e configurabile la domanda che magari alcuni di voi si fanno adesso è ok quindi devo farmi qualcosa a mano devo costruirmi qualcosa out of the box scusate devo costruirmi qualcosa da zero no la verità è che era in preview fino a quattro giorni fa quando ho preparato le slide adesso non lo è più quindi ho scoperto stamattina che non lo è più c'è una una funzionalità out of the box che si chiama metadata driven copy task invece di spiegarvi a in maniera teorica che cos'è ve lo mostro direttamente in una demo è una funzionalità che trovate all'interno di data factory se andate nella home è un po nascosta l'avrei messa magari in home page nella sezione ingest trovate appunto questa funzionalità metadata driven copy task che cosa serve questa questa funzionalità vi permette di costruire appunto un qualcosa di tra virgolette configurabile per cui selezionando questo task quello che vi viene chiesto qui è di identificare un punto dove andare a salvare una tabella perché in realtà il meta data driven significa andare a salvare dei metadati da qualche parte che vi permettono di creare in maniera rapida i vostri i vostri le vostre pipeline quindi vi chiede dimmi dove posso andare a salvare una tabella io ho un un asure sequel dove posso andare a salvare questa tabella per cui vado a dargli un nome e uno schema ho creato io uno schema che chiamo mdd quindi meta data driven ma può essere in qualunque schema di vostra di vostra fantasia e io voglio creare una tabella che si chiama main control table 871 dopo vi sarà chiaro che cosa c'è all'interno di questa tabella quindi maniera molto facile vado avanti e mi chiede dimmi quali sono le sorgenti dati che vuoi andare a referenziare nelle tue copy activity quindi in realtà qua potete andare a scegliere tutte le sorgenti dati supportate dalla factory in realtà io ho diciamo delle tabelle si quel che voglio esportare verso verso il data lake quindi qui ho un mio esercito database e voglio andare a esportare la tabella customer e la tabella product e vedete che in questo momento il mio bisogno è molto puntuale cioè ho solo due tabelle da esportare a questo punto seleziono quello che mi interessa posso decidere se caricare le tabelle in maniera full load scusate se posso caricare il file in full load oppure carico le tabelle in incrementale e c'è un setup da fare in questo caso facciamo le tabelle in full load e mi viene chiesto verso dove devo andare a salvare queste questo dato e quindi ho il mio data lake gli specifico la cartella dove voglio andare a fare la mia la mia scrittura e gli do un file name suffix posso definire anche tutti i parametri di esportazione per cui sarà un delimited text avrà saranno delimitati per riga avranno questo role delimiter quindi posso fare un po di setup all'interno di questo wizard arrivo poi dove arrivo alla fine dove mi viene mi viene detto quale sarà il nome del task che verrà creato posso definire quanti oggetti concorrenti quanti oggetti concorrenti lanciare quindi posso lanciare 248 16 32 oggetti in contemporanea e quindi se immaginate il vostro scenario che cresce da due pipeline che abbiamo in questo momento potremmo arrivare fino a 32 pipeline che vengono eseguite in contemporanea quindi anche in un'ottica di scaling diventa molto performante questo tipo di approccio intanto lasciamo auto e andiamo a vedere cosa succede nella schermata di riepilogo viene definito quale viene riassunto che cosa ho configurato quindi la tabella con quante tabelle sto andando a creare in questo momento eccetera eccetera il tipo di file eccetera eccetera cosa fa quando faccio finish va a creare degli oggetti per me questi oggetti in realtà poi noi li possiamo tra virgolette copiare e modificare a nostro piacimento la cosa la cosa importante è che ci dà lo script per creare la tabella metadata driven quindi noi prendiamo questa tabella la portiamo all'interno del nostro sequel dove ipotizziamo di andare a mettere la tabella di controllo delle nostre pipeline e l'andiamo a creare perfetto oltre a creare la tabella ci ha inserito anche due righe quindi vi faccio vedere la nuova tabella e andiamo a vedere i dati che ci sono all'interno questa è la nostra nuova tabella mdd main control table 871 potete dargli il nome che volete non non è importante la tabella contiene delle informazioni delle informazioni abbastanza chiare in realtà quindi andiamo a vedere il nome dei campi e poi guardiamo il contenuto di alcuni di essi abbiamo un id per cui abbiamo per ogni oggetto che io devo andare ad esportare avrò un id per ogni oggetto ho delle informazioni per cui per ogni oggetto mi è stato inserito in formato json il nome della tabella e lo schema da utilizzare come sorgente ma mi è stato anche inserito per ogni oggetto il la sua destinazione quindi capite bene che io ho già una tabella nella quale posso anche andare a fare delle operazioni di insert update delete per controllare i miei flussi questa tabella viene usata dalle pipeline per sapere esattamente cosa leggere dove andare a scrivere con che modalità per cui qui vedete che c'è un json che dice che ogni tabella viene caricata in full load quindi la leggo e scrivo il file tutte le volte posso addirittura abilitare o disabilitare i caricamenti e questo diciamo è quello che è successo dietro dietro le quinte quindi quello che è stato creato in sequel che cosa è stato creato in realtà invece in in data factory faccio finish vado nella sezione di autoring della delle pipeline e vedo che è stato creato un nuovo un nuovo gruppo di oggetti fatto di tre oggetti l'oggetto principale è il top level quindi immaginatevi traduciamo quello che io prima ho chiamato come grandparent parent child in top level middle level e bottom level quindi abbiamo comunque tre livelli il primo livello si occupa di andare a leggere la nostra tabella di main control vedete che si è salvato il nome della tabella che deve andare a leggere e sulla base di tutto ciò che trova all'interno della della tabella ma incontro andrà eseguire un ciclo su ognuno di quelli per poi andare a scrivere alla fine all'interno della bottom io vedo le attività di effettivamente scrittura dal dalla mia sorgente dati che è sequel alla destinazione che è un data lake funziona si funziona lo lanciamo in the bug quindi la pipeline quando l'ho lanciato in the bug la pipeline vi dice attenzione non posso farti un vero parallelismo quindi in questo momento sta eseguendo due task in sequenza non li sta eseguendo in parallelo ma quando effettivamente deployate una pipeline del genere la eseguite con un task schedulato con un trigger schedulato avrete proprio una sensazione di esecuzione parallela per cui con un limite che avete impostato prima le pipeline vengono eseguite in in parallelo vediamo qualche secondo e in questo momento sta eseguendo appunto le pipeline all'interno ha completato andiamo a vedere sul nostro blob storage e abbiamo i due file quindi abbiamo estratto i clienti e i prodotti se riesco vi faccio vedere magari il contenuto di uno e questi sono i nostri prodotti quindi li abbiamo esportati sul data lake per futuri utilizzi da parte di altri pezzi delle nostre pipeline delle nostre flussi di integrazione del dato e questo è bellissimo abbiamo esportato le nostre due tabelle qual è il problema il problema è che adesso qualcuno ci dice che dobbiamo dobbiamo creare una una nuova esportazione per una tabella che non è stata prevista quindi che cosa dovrei fare o creo una pipeline a mano ma siccome abbiamo implementato un approccio meta data driven io posso sfruttare questa tabella e come dicevo prima utilizzarla per ampliare la potenza di fuoco della mia applicazione e quindi farla scalare oltre quello oltre le tabelle per cui l'avevo pensata quindi permettetemi di fare copia incolla di uno script cosa posso andare a fare posso andare a fare semplicemente una insert all'interno di questa tabella specificando per esempio che il nuovo oggetto da utilizzare nuovo oggetto da esportare si chiama product category e dovrà essere salvato all'interno di un sempre del file system archive e il suo file name sarà sales lt product category quindi io vado a fare questa insert ho una riga in più quindi rifaccio la select sulla main table ho una riga in più quindi vedete perfettamente uguale alle altre ma con una tabella in più e con un ovviamente il file name è diverso tutte le altre opzioni se come il mio script copiava le impostazioni dell'id 1 sono tutte uguali ovviamente posso cambiare quello che preferisco e come vi dicevo prima posso anche disabilitare determinate esportazioni quindi la mia main control table adesso ha tre record per cui io cosa faccio? se torno all'interno della mia pipeline non è che devo fare alcun tipo di modifica alla pipeline stessa semplicemente rilancio la pipeline ancora lo stesso warning del mancato parallelismo perché siamo in una situazione di debug per cui parte di nuovo la pipeline stavolta avrà tre record quindi ci sono tre esecuzioni sequenziali una dietro l'altra che ripeto nel momento in cui deployate questa pipeline saranno in realtà in un trigger saranno in realtà parallele andiamo di qualche secondo per terminare l'attività ok andiamo a vedere a questo punto il nostro storage account il nostro data lake e vedete che abbiamo un nuovo csv pronto per l'esportazione vedete che anche gli altri due sono stati eseguiti perché tutte le trasformazioni risultano 11 10 11 10 più o meno quindi la nostra pipeline leggendo la main control table è andata ad eseguire le tre esportazioni ovviamente la vostra main control table potrebbe avere all'interno diverse sorgenti quindi potreste leggere da sorgenti dati diverse potreste scrivere in destinazioni diverse con approcci diversi per cui potrei avere potrei avere un po in full load un po in incremental qualcosa attivo qualcosa spento e così via diciamo che questo approccio ovviamente vi semplifica molto la vita dovete per forza utilizzare quello out of the box di microsoft no in realtà no una volta che avete questa tabella e avete la pipeline originale potreste in realtà scopiazzare i meccanismi usati da microsoft per fare le letture di questa tabella e la parametrizzazione dei vari oggetti per costruire il vostro sistema di metadata driven approach però diciamo che è un buon punto di partenza e siccome ce l'avete out of the box magari potete studiarvelo e se già risponde alle vostre necessità è un qualcosa che è molto interessante altrimenti vabbè vi costruite il vostro approccio nei link vi ho lasciato per esempio un blog di polendrio in realtà è il github di un progetto di polendrio che è una delle persone più influenti dal punto di vista data factory e signups al mondo che ha costruito la sua visione di metadata driven approach con un'applicazione completamente custom che integra anche azure function eccetera sicuramente quello è molto più complesso ma è un esempio di come si può costruire questo approccio anche senza utilizzare gli strumenti out of the box di microsoft continuiamo quindi sulla presentazione un'idea che vi voglio passare è quella di parametrizzare il più possibile gli oggetti che avete per cui ancora una volta cercate di non fare le cose manuali per cui avete una tabella un data set un file un data set ma cercate di parametrizzare cosa 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 intendo ipotizziamo di avere le tre tabelle che vi ho mostrato prima nella demo quindi address product e product category se io devo leggere queste tabelle in maniera manuale posso creare un data set che punta un data set di tipo sequel che punta solo alla tabella che deve andare a leggere per cui ho un data set che si chiama address un data set che si chiama product e uno che si chiama product category e li vedete qui funziona ovviamente ma che cosa succede che cosa succede succede che non non è scalabile o meglio non è flessibile questa soluzione perché nel momento in cui devo aggiungere un'altra tabella da leggere rischio di dover aggiungere un altro data set e se diventano 100 tabelle da leggere avrò 100 data set completamente diverso è un approccio parametrico in cui trovo un modo di passare lo schema e il nome della tabella al mio data set ed è esattamente quello che fa la metadata driven approach quindi torno di nuovo sul su data factory e vi mostro che cosa fa questo questo meccanismo che viene implementato nella nell'out of the box vado a farvi vedere il data set qui ovviamente ci sono anche gli oggetti che vengono creati non solo le pipeline ma anche i data set se vado a farvi vedere per esempio il data set is your sequel che è stato creato per leggere le varie tabelle come vedete è appunto parametrico per cui il data set a un parametro schema a un parametro table e questo questi parametri vengono valorizzati dalle pipeline che li leggono dalla nostra main control table per cui vado al livello bottom vado nel full load e qui vedrete che nella sezione sync ci sono tutti scusate non la sezione sync ma voglio farvi vedere la source perché è la tabella quindi nella sezione source avete che la copy activity che sta spostando i dati da sequel a blob storage quindi con un file csv prima di fare questa operazione di lettura passa al data set due parametri questi due parametri sono arrivati dalla main control table tramite delle chiamate delle varie pipeline e quindi leggendo dalla control table decido qual è la tabella che sto leggendo in quel momento quindi in realtà nonostante noi abbiamo tre tabelle da leggere il data set che abbiamo è solo uno che è questo qui abbiamo un solo data set che parametricamente viene valorizzato e questo è interessante perché nel momento in cui la mia soluzione esplode tra virgolette in diverse esportazioni posso avere un unico data set senza dover moltiplicare l'effort per il numero di tabelle questo secondo me è un bel è un bel plus della della soluzione ripeto non è necessario avere l'implementazione del metadata driven fatta tramite il tool di microsoft ma si può tranquillamente scopiazzare quello che viene fatto da questo tool per poi portare questo approccio su tutte le nostre pipeline anche quelle che costruiamo completamente completamente a mano tornando sulle slide un altro tra virgolette consiglio che vi vorrei dare è quello di tenere sempre in considerazione che data factory ama key vault quindi c'è un'integrazione strettissima tra data factory e key vault spesso quando si fa data integration si lavora con i dati e si deve andare a leggere dei dati dalle sorgenti scrivere in destinazioni è auspicabile che ci siano delle password dei secrets da tenere in considerazione per poter effettuare questo tipo di operazioni e si spera che il tutto non sia gestito tramite autenticazione anonima perché il tutto deve essere ovviamente in sicurezza quando questo succede spesso ci si trova a chiedersi dove metto i secrets che mi servono per fare questa attività beh la best practice è quella di salvare i secrets fuori data factory io quando per esempio costruisco una connessione verso sql posso salvare la password e l'utente che utilizzo per fare la connessione verso sql direttamente dentro data factory stessa cosa dentro a stessa cosa per lo storage account e via così tutti quei servizi che hanno bisogno diciamo di un'autenticazione potrei farlo all'interno data factory ma la best practice è quello di farlo fuori parlo fuori e dove lo metto esiste un servizio in azure che è chiamato chi volt che serve proprio a fare questa cosa per cui salvo i secrets dentro a chi volt e l'integrazione nativa che c'è tra data factory chi volt mi permette di evitare di avere i secret salvati all'interno di data factory quali sono i pro ovviamente non ho i secret all'interno di data factory quindi la prima cosa è che gli sviluppatori a cui io do in mano la possibilità di sviluppare con data factory non necessariamente devono sapere i secrets possono puntare ai secrets in chi volt senza che senza saperne in realtà il vero valore quindi io che sono l'amministratore delle password della mia azienda o un chi volt do la possibilità di accedere a data factory a questo chi volt e dico agli sviluppatori la password di data reader sul sequel server è questo secret utilizzalo ma non necessariamente lo sviluppatore ha la password dell'utente l'altra l'altro vantaggio è che gli amministratori che hanno queste password in mano possono effettuare setup e rotazioni di questi secret di queste chiavi senza necessariamente mettere mano al data factory perché se io cambio la password del data reader per miei policy aziendali ovviamente dovrei aprire tutti i data factory e cambiare le password all'interno di data factory e quindi questo presuppone che io abbia conoscenza di come funziona data factory e mi debba occupare anche di data factory in realtà no cambio il secret dentro a chi volt e sono a posto cosa posso salvare dentro a chi volt password utenti identities server name server principal name tutto quello che certificati quello che mi viene comodo per fare le mie le mie attività di connessione un esempio come vi dicevo data factory è nativamente integrato con chi volt lo potete scontrerete tra virgolette con questa cosa spesso nella vostra avventura con con data factory vi faccio un esempio abbastanza semplice ipotizziamo di voler creare una connessione verso azure sequel come faccio devo creare un linked service quindi creo un collegamento tra la mia data factory e un servizio che si trova in cloud la prima cosa che che faccio è creare questo servizio e come vedete l'ho fatto diciamo nella maniera tra virgolette sbagliata per cui ho configurato il nome del servizio il nome del database e gli ho detto che l'autenticazione è di tipo sequel server con utente ric e la password è inchiodata dentro al data factory questa cosa ovviamente mi crea un problema mi mi va a dare delle dei problemi di cui abbiamo parlato prima quindi nessuno può ruotare banalmente questa chiave senza rompere le connessioni di questo data fatto quindi io cosa posso fare innanzitutto posso decidere di creare un secret dentro al chi volt e per poterlo utilizzare crea un collegamento tra il mio data factory e chi volt uso appunto il link service chi volt e se ho la mia o chi volt dentro la mia alla mia subscription in cui c'è data factory posso utilizzarlo appunto quindi creo il mio la mia connessione da data factory al chi volt e in questo momento quindi tutto ciò che c'è all'interno di chi volt lo posso utilizzare proviamo a questo punto a switchare sul nostro link service di sequel e vedete che in alcuni punti troverete chi e giù chi volt come possibilità di per esempio definizione della connection string possibilità di definizione della password potete in realtà veramente anche configurare all'esterno le connessioni stelle questa una cosa che per esempio io faccio spesso che è quella di mettere le connessioni stelle dentro al chi volt ancora una volta se un vostro amministratore di sistema deve cambiare il server di sequel per esempio o cambiare un ambiente può farlo senza bisogno di entrare all'interno data factory perché lo può fare direttamente dal chi volt e io non necessariamente devo sapere quali sono gli estremi di collegamento a quel a quella se io a questo punto ho salvato da nel mio chi volt la password di amministratore di questo ciclo di lettura di questo sequel una volta che switch su chi volta mi viene chiesto qual è il chi volt a cui mi devo collegare e poi una volta che seleziono il chi volt o tutti i secret che ci sono all'interno del chi volt quindi ho un chi volt un secret che mi salva la password di system administrator di questo sequel posso dirgli prendi l'ultima versione di questo secret a questo punto faccio test connection e salvo il mio linked service quindi in questo momento che cosa ho fatto ho creato lo stesso linked service di prima ma questa volta la password non è stata inchiodata all'interno del asure sequel ma è all'esterno è all'esterno ed è gestibile in autonomia da parte degli amministratori che possono ruotarla cambiarla o fare quello che ritengono più opportuno e la cosa più importante è che io sviluppatore data factory non ho idea di cosa ci sia qui dentro non so qual è la password di questo utente e posso ovviamente spingermi molto più oltre configurando magari anche il nome del server all'esterno per esempio tornate un po indietro la demo l'abbiamo visto parliamo a questo punto di managed identities managed identities cosa significa significa accedere a degli oggetti con delle identità particolari che cosa sono le managed identities diciamo io non sono un esperto di active directory di azure active directory in particolare ma diciamo la definizione più semplice di questa di managed denti che ogni applicazione all'interno di azure o la maggior parte delle applicazioni in azure ha un suo id interno id interno che può essere utilizzato per connettersi a risorse in azure che supportano la connessione active directory con il loro id per cui una cosa che non vi ho fatto vedere ma che è successa quando ho configurato active quando ho configurato data factory per parlare con il key vault è che il key vault accetta una connessione tramite la managed identity del data factory stesso per cui torno indietro un attimo sulla 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 demo e vi faccio vedere che quando ho configurato il link service verso il key vault qui ho specificato qual è l'indirizzo del key vault e qui mi viene detto che questo data factory il nome di questo data factory a questa managed identities e questa managed identities può essere utilizzata per collegarsi al key vault e questa cosa la posso spingere diciamo all'estremo perché in realtà potrei consentire al mio data factory di collegarsi a tutte le sorgenti dati che supportano azure active directory come metodologia di connessione utilizzando la sua managed identities e quindi potenzialmente potrei non dover più gestire quel famoso utente ric su sql server l'utente di lettura su sql server perché in realtà dico che data factory può collegarsi usando la sua managed identities ovviamente questa managed identities è l'id di data factory di questo data factory ed è univoco all'interno di azure quando distruggo data factory questo id viene perso e quindi non ho più quel quell'utente da un punto di vista della sicurezza mi garantisce che nel momento in cui l'oggetto a cui ho garantito l'accesso cessa di esistere non avrà più accesso nulla avrà più accesso su quel database con quella con quella finalità quindi in realtà utilizzare le managed identities è molto comodo e vi permetterebbe di evitare di avere appunto questo 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 questa espansione di utenze di credenziali all'interno delle vostre data factory perché semplicemente date accesso a data factory avete due tipologie di managed identities le system assigned che sono quindi quelle che vengono create direttamente alla creazione di data factory gli viene dato un id e quella è la managed identities la sua id che è stata data da microsoft voi non la potete cambiare e quando distruggete la risorsa cessa di esistere in realtà è stato è stato creato anche è stato aggiunto da poco il supporto alle user assigned quindi voi potete creare delle delle managed identities nella vostra active directory e assegnarli al data factory in maniera tale che se distruggete quel data factory potete riassegnarlo a un altro data factory magari nuovo e non perdete tutti i permessi quindi ci sono entrambi gli approcci e ovviamente scegliete uno o l'altro in base ai pro e contro di uno e dall'altro in base alle vostre policy azienda come vi dicevo potete spingervi veramente anche al limite con le managed identities quindi potete per esempio garantire a data factory di collegarsi anche a sequel server vi lascio nei link un blog in cui è descritto passo passo come si raggiunge questa configurazione per cui alla fine dentro al vostro data factory non avrete nessuna password vi collegherete a azure sequel senza sapere il suo indirizzo e senza sapere la sua password perché in un caso l'indirizzo è salvato in key vault e nell'altro caso l'autenticazione avviene tramite managed identity di data factory quindi il vostro data factory non è completamente agnostico del 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 sequel e delle sue credenziali ora parliamo di una una funzionalità interessante che è completamente slegata da quello di cui abbiamo parlato prima è legata al concetto di data flow in data factory per cui vi mostro subito di cosa sto parlando per chi non lo sapesse data factory fino a due anni fa non aveva nessuno strumento di trasformazione del dato interno per cui per poter fare trasformazioni doveva per forza appoggiarsi su strumenti esterni poteva essere sequel tramite store procedure poteva essere data fa data brics tramite il suo notebook o qualunque altro strumento esterno faceva solo da da tramite sui dati da un po' è stato introdotto una cosa che è chiamata data flow questa questo tool che ricorda un po' i data flow di integration service vi permetto di fare le trasformazioni quindi per esempio qui ho creato un data flow molto semplice che prende da una sorgente seleziona alcune colonne e scrive in un'altra stessa cosa fatta dalla dal data flow numero due cosa succede dietro le quinte quanto eseguo un data flow viene creato un cluster data brics per me un cluster on demand che viene poi distrutto al termine del data flow e che fa tutte le trasformazioni ovviamente che cosa succede succede che mi posso trovare in una situazione del genere quindi vado nel nel log e vi faccio vedere questa cosa qui ho lanciato una pipeline che esegue il data flow 1 esegue il data flow 2 in sequenza la pipeline è durata complessivamente più di sette minuti in particolare è durata tre minuti e trentasei il primo data flow e tre minuti e trentasei il secondo data flow se vado a vedere il dettaglio scopro che in realtà l'attività è durata pochissima è durata cinque secondi ma ho tre minuti e due secondi di cluster start up time quindi prima di poter fare questo data flow data factory ha dovuto fare lo start up del cluster e ci ha impiegato tre minuti la stessa cosa torno sulla pipeline è successa quando ha eseguito il data flow numero due ha dovuto ricostruire di nuovo il cluster e ci ha impiegato altri tre minuti per una per un'attività che è durata poco meno di cinque secondi questo ovviamente diventa un problema perché io potrei avere tante trasformazioni una dietro l'altra e non posso sempre aspettare circa tre dai tre ai dieci minuti per tirare su un cluster cosa cosa è stato introdotto sette mesi fa in preview ma ormai è in release e genera la availability è stato introdotto il tempo live per cui io posso configurare un data flow per come vedete in questo caso la prima il primo data flow ha impiegato cinque minuti di cui quattro minuti solo di accensione del cluster cluster start up time quattro minuti il secondo data flow invece è durato tre secondi circa e come vedete il cluster start up time è un secondo e sette ha solo realizzato che il cluster esisteva già come faccio a fare una cosa del genere semplicemente vado a creare all'interno dei miei integration run time creo un integration run time che qui ho chiamato df optimized che ha al suo al suo interno avrà questo time to live definito quindi definisco quanto un cluster utilizzato per data flow sta vivo prima di essere distrutto in questo caso 10 minuti se poi io nelle mie pipeline nelle mie pipeline vado a definire che il data flow 1 girerà su df optimized così come il data flow 2 quella quella opzione mi permetterà appunto di sfruttare un cluster già acceso come vi dicevo questa funzionalità è in preview era in preview adesso è generabile ability addirittura non non c'è più l'interfaccia che c'era prima che vi chiedeva appunto di flegare il quick reuse ve lo trovate già già flegato già impostato in questo modo dovete soltanto creare un integration run time dedicato a questa cosa io vado veloce alla fine il mio ultimo suggerimento per voi senza demo perché richiederebbe diciamo una sessione a parte è quello di utilizzare devops utilizzate devops che è integrato nativamente in data factory per tracciare e fare il version control delle vostre pipeline dei vostri data set l'intera pipeline l'intero data factory può essere messo sotto source control tramite devops e potete gestire tramite devops anche i deploy delle pipeline in differenti ambienti quindi cercate di utilizzare devops per mantenere appunto allineate le vostre le vostre pipeline anche in diversi in diversi ambienti vi lascio alcuni link il link alla documentazione ufficiale di data factory l'approccio metadata driven out of the box e quello di paul andrew che vi ricordavo è una un intero progetto che trovate sotto vita e quindi potete decidere di scaricarlo e contribuire a questo progetto e provare a utilizzarlo nelle vostre aziende concetti di manage the identities e un blog in cui potete guardare come configurare la connessione da data factory azure sql senza senza utilizzare appunto connessioni di alcuni link di alcun tipo perché configurate la connessione che in chi volt e utilizzate la managed identity data factory per connetterli Grazie a tutti